ciao a tutti raga ben ritrovati in questo nuovo episodio di ritorno al futuro continuiamo con i dialoghi tra Emmet e il padre vediamo se riusciamo a uscirne fuori vediamo se riescono a parlarsi finalmente ma no si stanno solo scannando insomma non è stato un buon risultato allora gli aiuti non ci dicono nient'altro quindi dobbiamo trovare solamente la domanda giusta da fare a ciascuno dei due e fare in modo che risolvano per lo meno la situazione attuale può sembrare impossibile ma non lo è abbaia ma non morde urla solo perché ti ama ok proviamo l'altra abbaia ma non morde proviamo a parlare allora con il padre è importante per Emmet Emmet non è come le altre persone è importante per il futuro vorrei dire di no ma dirò di sì tosto porca miseria Emmet non è come lei ha bisogno di libertà abbiamo sbloccato nuove frasi ragazzi ecco ecco neanche suo padre la capiva ok ecco allora cosa avevano in comune Emmet è il padre erano oppressi dai loro padri in pratica dice che sei come tua madre dice che si c'è il risultato da tua madre è il punto è l'interno non è saluto da me insultare ha bisogno di trasferire di adottare la macchina anche la macchina non è proprio come me è gentile e sbattura e in semplicemente paciente se che cosa mi sono più come... io lasso Scusate! Penso davvero che lo vuole questa volta. Tu non mi ascolti. Tu stai iniziando a dire che sei tipo... Scusate! Puoi essere che tu e tuo padre? No, prossimo subjecto. Emmett, parla di essere un gioco. Hai la tua orgoglia, ok, lo so. E così lo so, ma... Ma cosa è il problema in cercare di riuscire con il ragazzo? E' la tua famiglia, e la famiglia è importante. A volte è, beh... Anche più importante che ci vediamo. Beh, che il presentimento è quello, eh. Grande! Grande! Ok. Inizia l'esibizione di Emmett. Vediamo che cosa succederà. E ora la Expo Hill Valley è felice di presentare Mr. Emmett Brown e il suo electrokinetico Levitatore! Vai Emmett! Grande! Ce l'ha fatta! Oh! Dobbiamo andare a vedere cosa succede. Oh, ho sentito uno strano rumore. Hey! Hey, Doc! Get back here! Ma quindi dentro la macchina c'è Edna. Se non ricordo male. Ecco! Potrebbe essere un disastro. Edna dentro la macchina del tempo. E Doc sta per scomparire! Oh, porca miseria. Però in effetti questo è il Doc della realtà alternativa. Oh, caspita. È stato preso in pieno, Doc. Oh, mio Dio! Duc! 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 Duc qualcosa! Avrebbe senso se scomparisse però. Pensateci. Lui fa parte di una realtà alternativa. Dic. Iridium. Tic. Edium. Edith. Senta. O che… 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 o che? Emmett, a quanto pare. Cavolo. È successo un casino. C'era da immaginarselo. C'era da immaginarselo. C'era un casino. Ok. Che mi dici di tuo padre? Oh. Eh... Diciamo di sì. Nessuno che conosce. L'ha percepito. No. Ok. Ecco qua. Ok. Ecco qua. Ecco qua. Certo. 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 Eccolo qua. Certo. Ehm... Giusto. Sono venuto a salvarti. Un casino. Dock. Lascia stare. Ehm... Beh... Insomma... Ci sarebbe un'altra DeLorean che è andata via con Edna. Ehi. Guardate bene a chi assomiglia questo personaggio. Questo è il bisnonno di Marty. Che ha esattamente l'aspetto di Michael J. Fox. Ehm... Ehm... Marty l'ha visto nel 1885 nella culla. Ehm... Trixie è tua nonna, ragazzi. Ehm... Nooo... Oh oh. Giusto. Parker stava inseguendo la DeLorean. Con Edna dentro. E tu? Non sei Edna. Cosa succede qui? C'è un pollo che mi mette in casa? Non, è tutto molto semplice, Danny. Oh, sicuramente è. Mi chiedi, ho o non ho scoperto a Edna Strickland in questo caro? Eh, non questo caro exacto, ma un caro proprio come. Un caro con l'ambito brutto di dissiperare in l'acqua? Beh, Edna Strickland ha proprio dissiperato in Delorean? Oh, oh. Chissà dove è andata allora. Chissà quando è andata. Eh, è fatto. Qualsiasi data. Oh, questo è vero. Questo è vero vero. Allora speriamo che si è andata nel futuro. Nel futuro vicino. Se si è andata nel passato... Pensi che si può sbagliare il stream di tempo? Aspetta un minuto, questo è Edna. Ovviamente si può sbagliare il stream di tempo. Eh, ragazzi. Ti capisci di dire cosa stai... Uh oh. Sta tipo sparendo tutto? Eh, sì. È sparito tutto. Mi sa che Edna ha incasinato la linea temporale, eh. Almeno speriamo nel passato. E' di nuovo la macchina. E' di nuovo la macchina. E' di nuovo la macchina. Eh, magari puoi aiutare. Ok, ragazzi. Per questo episodio è tutto. Noi ci rivediamo con un altro video di Ritorno Futuro. Un saluto da Gioque Sporco. Ciao a tutti. Alla prossima.